Su Snapchat c'è un utente che ti infastidisce? Seguimi, ti mostro come segnalarlo. Per prima cosa, vai sul profilo dell'utente in questione. Ora, clicca sui tre puntini in alto a destra. Sul menu che comparirà, seleziona la voce Segnala. Nell'elenco che comparirà, scegli il motivo che meglio descrive il tuo caso. In questo caso, siccome l'utente ha inviato Snap Offensivi, puoi scegliere la voce Snap Offensivi o Inappropriati. Conferma la tua segnalazione cliccando sul pulsante verde Segnala. Al termine, clicca su OK. Ecco, ora hai segnalato a Snapchat che l'utente in questione non ha rispettato le regole. Inoltre, se non desideri più avere contatto con questo utente, puoi anche bloccarlo. Vieni, ti mostro come fare. Torna sul menu con i tre puntini e invece di cliccare su Segnala, scegli la voce Blocca. Snapchat ti chiederà nuovamente se sei sicuro. Cliccando su Blocca, confermi la tua scelta. Ora l'utente è stato bloccato e non potrà più contattarti. Speriamo che questo video ti sia stato d'aiuto. Puoi trovare altri consigli sul cybermobbing o l'odio su internet nella nostra guida su Instagram. Inoltre, se sei vittima di mobbing o di odio su internet, non esitare a parlare con qualcuno di fiducia. Sono Ricky, formatore di Swisscom Academy. Alla prossima!